Questa mattina si è svolta la quinta edizione della consegna del premio Ragionier Romano Merlatti. Il Ragionier Merlatti ha donato all'istituto una somma di denaro per poter consegnare un premio, una borsa di studio, ai cinque studenti diplomati ogni anno con i risultati migliori. È per noi un onore poter ogni anno riconoscere l'impegno, la crescita e il percorso che i nostri studenti svolgono durante i cinque anni. E anche stamattina abbiamo premiato cinque studentesse che hanno ottenuto all'esame di Stato 2020 risultati veramente eccellenti, oltre ad avere contribuito alla vita della scuola durante i cinque anni. Per noi è un piacere rinnovare la sua memoria perché con questo premio vogliamo portare quelli che sono i valori che hanno sempre caratterizzato l'attività di mio padre, e quindi il merito, l'impegno, la costanza e soprattutto la voglia di migliorarsi sempre. È un anno un po' particolare, come ho detto prima, così c'è molto bisogno di questi valori, che erano quelli che hanno caratterizzato la generazione del dopoguerra, di quando mio padre ha frequentato questo istituto, ma anche oggi possono essere attuali per rinascere e per ripartire tutti insieme dopo questo momento un po' particolare.